Un caro saluto amici e amiche e bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di tipo 6. L'alta pressione sta cedendo il passo alle perturbazioni atlantiche, una di queste in queste ore sta interessando la nostra penisola, per il momento perturbazioni molto blande, dopo il 23 febbraio si aprirà un vero e proprio tunnel in cui si infileranno tante perturbazioni in nord atlantiche via via sempre più fredde. Per quanto riguarda questo martedì, tempo instabile e perturbato al mattino con delle piogge, a tratti degli acquazzoni a ridosso dei monti, quota neve attorno ai 1300-1400 metri di altitudine, un po' più asciutto sulla conga aquilana, la marsica, comunque già dalla tarda mattina e nel primo pomeriggio le precipitazioni tenderanno gradualmente ad esaurirsi e quindi tornerà un po' più di stabilità col passare delle ore. Temperature che scendono di qualche grado, massime comunque quasi ovunque, oltre i 10-11 gradi. Con questo concluso noi ci rivediamo nel prossimo appuntamento, sempre qui su TV6.